Sì, ho capito, ma perché devi rubare? È gratis e devi rubare! Si vede meglio qua che il Rotario Oh, Marci, si vede meglio qua che il Rotario Arriva la Pura, Rod Arriva la Pura Non ne fa uno! Non ne fa mezzo Porca busta Quanto è il record? Non è che dico una media, non ne fa Marco 1 Battimi il record, Nagy Quanto è il record? Non lo so Quanto è il 121? 121 Dai Nagy, quanto tempo c'è ancora? Non lo so Minchia, dai! Nooo! 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 Nooo!